L'allerta arancione è stata riattivata in Emilia-Romagna ma 11 regioni saranno anche soggette a un'allerta meteo gialla oggi lunedì 5 giugno 2023. Nel nuovo bollettino delle allerte meteo-idro la protezione civile ha emesso un nuovo avviso riguardante condizioni avverse con diverse segnalazioni di rischio temporale e criticità idraulica e idrogeologica. Saranno 11 le regioni interessate da un'allerta meteo gialla a causa del pericolo di temporali. Per il giorno 5 giugno è stata valutata un'allerta di criticità ordinaria sia per l'Emilia-Romagna che per Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.